Con questo un posto che connette i know-how di cui disponiamo e per cui per noi è un esempio. L'assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi in visita per la prima volta a Comonexta Lomazzo dove ha incontrato alla presenza del prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, il presidente del Lab Tecnologico Enrico Lironi. Durante l'incontro è stata evidenziata la capacità del Polo dell'Innovazione Comasco di connettersi con il territorio. Siamo contenti di poter rappresentare la storia di questo Polo ma anche le attività che svolgiamo a beneficio non solo delle nostre aziende interne che sono come è noto più di 100 ma anche del trasferimento tecnologico che facciamo sulle aziende esterne della nostra provincia e non solo nell'intera regione. Il segreto della Lombardia è quello di anticipare i tempi e i tempi si anticipano grazie anche a strutture come queste che fanno dell'innovazione il segreto e le vittorie e che soprattutto incrociano la capacità di creare innovazione con le aziende già esistenti non solo con le start-up che vengono qua incubate e accelerate.